Allora, per cambiare l'Italia non ci vuole Forza Italia o gli altri partiti tradizionali. Noi proponiamo il cambiamento con Beppe Grillo, Presidente. Anche nel Parlamento europeo, votare il Movimento 5 Stelle per cambiare l'Italia e per cambiare l'Europa. Non abbiamo bisogno più dei partiti tradizionali, abbiamo bisogno di un cambiamento in Italia. Beppe Grillo è la forza del cambiamento, il Movimento 5 Stelle. Di Berlusconi non ne facciamo niente, ce l'abbiamo da tanti anni, è l'ora di rotamare la politica di Berlusconi. È una politica che non regge, che non ha creato lavoro, non ha creato un milione di posti di lavoro, sono tutte balle. Berlusconi ha creato questo spot elettorale per dire votatemi, votatemi per salvarsi dai processi di Milano. Noi dobbiamo voltare pagina, cambiare il sistema e cambiare il sistema mondiale e anche europeo. Quindi per cambiare c'è la nuova forza innovativa e Beppe Grillo con il Movimento 5 Stelle. Anche per cambiare Monserrato proponiamo una forza nuova, Movimento 5 Stelle anche a Monserrato. Per cambiare il Paese, per dare più svolta a Monserrato, per creare sviluppo, MS5 è la forza del cambiamento. Allora, siamo stanchi dei partiti tradizionali, corrotti, mafiosi e quanto altro. Noi dobbiamo cambiare. Non dobbiamo più votare questi partiti tradizionali. Cambiamo e voltiamo pagina per un'Europa più libera. Votiamo il Movimento 5 Stelle per cambiare l'Europa e anche per cambiare l'Italia. Beppe Grillo è la forza innovativa. Beppe Grillo è un progressista. Votiamo Beppe per cambiare l'Italia, cambiare il sistema. A noi questo sistema di partiti non ci piace. Ci hanno troppo attaccassato. È l'ora di voltare pagina. È l'ora di cambiare. Dare un nuovo volto alla politica. Con il Movimento 5 Stelle noi cambiamo, buttiamo via questa spazzatura di partiti, corrotti e quanto altro. Beppe Grillo è la forza del cambiamento. Grazie di avermi seguito. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.